...mi è rilevante, è un po' molto molto utile dal punto di vista della società, del medico, in una via fretta, che ero molto utile. Vorrei usare la parola al nostro ospite, a queste direttamente di normalità, che ringraziamo che ci fosse un'infezione in questa sala fantastica, che ci fa ricordare di poter dire altre cose che le decine hanno, si fa anche una pandemia, si fa le scelte di vicini.